Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'Abruzzo continuerà ad essere bicolore anche la prossima settimana, lo dice l'ordinanza del presidente della regione Marco Marsilio, ma lo dicono anche i numeri dei contagi che si sono praticamente stabilizzati in questi ultimi giorni. È vero che escono dalla Red Zone città importanti come Pescara e Chieti, oltre ai comuni della costa sud della provincia di Teramo, e vi restano invece grandi centri come Montesilvano, ma è altresì vero che il pericolo è tutt'altro che passato. Se poi l'attenzione degli abruzzesi è la stessa che ha spinto qualcuno a organizzare feste, si è ben lontani dal risolvere il problema. Quanto meno ha ripreso corpo e numeri la vaccinazione con il via libera da AstraZeneca. Oggi i nuovi positivi sono 370, una quarantina in meno rispetto a ieri. Scendono anche le percentuali di contagiosità, sia quella sulla base dei tamponi molecolari, che sono stati 4880, per un rapporto pari al 7,6%, che quella generale, su un totale di test eseguiti pari a 6.338, che danno una percentuale complessiva del 5,8%. Resta chieti la provincia maggiormente colpita dal virus, soprattutto dalla variante inglese, con ben 163 nuovi casi. Viaggia invece sulla stessa linea quello delle altre tre province, che contano 73 nuovi positivi L'Aquila, 65 Pescara e 64 Teramo. Il fattore che desta maggiori preoccupazioni, invece, riguarda il numero delle vittime, che oggi sono tantissime. Si contano, infatti, 35 decessi. È vero che di questi ben 24 sono risalenti ai giorni scorsi, ma il numero risulta veramente troppo alto per questi tempi. A far pendere la bilancia dalla parte delle buone notizie, ci sono i numeri riferiti ai ricoveri ospedalieri. In calo sia quelli delle terapie non intensive, che contano 4 ricoveri in meno rispetto a ieri, portando il totale dei letti occupati a quota 668, mentre sono 5 meno di ieri i ricoverati nelle terapie intensive, che adesso ne contano 83 in tutta la regione. Altro dato da tenere in estrema considerazione riguarda il numero dei guariti, che anche oggi supera quello dei nuovi contagiati. Ad avere risolto il problema con il virus nelle ultime 24 ore, sono stati in 424, che fanno diminuire il numero di coloro che sono attualmente positivi di 90 unità e diventano così 10.873.